L'esercizio che vedremo oggi è il Pulley fatto in due modi diversi. La prima versione sarà fatta con schiena dritta in isometria. Stacca il carico e porta la farfalla al petto buttando fuori l'aria. Ogni volta che stendi il braccio, inspiri. Fissa il tuo obiettivo e se quello che vuoi è avere una schiena più forte, esegui serie un po' più corte, numeri di ripetizioni con pesi alti e recuperi completi 3-4 minuti. Se il tuo target invece è quello di incrementare la massa muscolare, sfrutta il carico al 70-80% della ripetizione massima ed esegui serie medio-lunghe 10-14 ripetizioni con recupero da 60-90 secondi. Andiamo a vedere ora il Pulley schiena sempre dritta ma con l'increazione del busto. Mi raccomando non storcere, non curvare mai la colonna. Esegui sempre un movimento fluido per evitare che si inchiodi la muscolatura. Come ti dicevo poco fa, attenzione a non curvare la colonna. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao e buon allenamento! Ciao! 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 Ciao!